Sui lavori in corso Vittorio Emanuele a Caltanissetta interviene la confe esercenti, ci sono diverse osservazioni. Oggi si sta verificando quello che noi abbiamo detto più di due mesi fa. Siccome noi non siamo veggenti ma siamo persone normali, forse riusciamo a fotografare la società per quella che è, non per quella che vorremmo che sia. Questo diventa fondamentale, essere pragmatici in questo momento di crisi economica diventa fondamentale per lo sviluppo e per la salvezza di alcune imprese. Avevamo detto che lavoriamo di più ogni giorno, non è stato così. Abbiamo iniziato il lavoro, vorrei ricordare tutto, anche prima di San Michele non c'era bisogno, abbiamo semplicemente chiuso il centro storico, addirittura anche alla processione. I commercianti sono alla deriva. Ieri ho visto una cosa allucinante, uno che con un flex tagliava una balaustra di pieta lavica con una polvere incredibile che entrava dentro i negozi. Non si ha nessun rispetto per chi oggi sta facendo imprese, sta resistendo in questo centro storico che dovrebbe essere il cuore pulsante della società o il salotto a cui abbiamo sempre anelato. Così non è e la politica non penso che oggi ha messo su degli strumenti tali da poter incoraggiare al rientro dopo che finiranno i lavori di altre attività economiche. E vorrei dire anche che non si dovrebbe parlare poi di chiusura di questo centro storico se prima non riempiamo di contenuti per contenuti dentro le aziende. Io vorrei vedere un centro storico che diventa veramente un piccolo centro commerciale naturale. Io penso che le cose invece vanno fatte insieme, per carità, nessuno deve tenere la verità, ma se noi discutiamo da persone per bene quale siamo, organizzazioni datoriali e amministrazione comunale, possiamo andare a costruire un progetto che vada veramente verso tutte quelle che sono state le nostre buone intenzioni da vent'anni a questa parte, perché di questo dobbiamo parlare. Io spero che si abbia più sensibilità verso le imprese, potrei dire per esempio, perché ancora oggi i locali in piazza non vengono dati all'Umbli con un progetto che è stato finanziato dal GAL, visto che sono anche presidente del GAL e sono le prime tre stanze in piazza dove ci deve venire un centro multimediale, l'esposizione permanente di prodotti tipici, è un centro informativo di informazione per i turisti, quei pochi arrivano e non sanno nemmeno dovantare. Questa è una cosa che potrebbe essere fatta subito, basta dare i locali, l'Umbli ha già i soldi, perché GAL ha già dato la prima tranche dei soldi, quindi questo già potrebbe essere anche un segnale di incoraggiamento verso la tenuta di questa città. Avete intenzione di incontrare l'amministrazione? Ma noi siamo disposti a incontrare tutti, ho la sensazione che l'amministrazione comunale abbia preso non solo una strada diversa, cioè è come se i colpi intermedi non serviamo, non serviranno a niente, guardate che i colpi intermedi rappresentano le imprese, io dico sempre che la spina dorsale di quest'Italia, non solo di questa provincia della Sicilia, sono le piccole e medie imprese.